A questo punto mi viene spontaneo chiederti, ma il perdono è sempre possibile? Per definizione il perdono è un dono, è un dono di Dio, però è sempre possibile per noi cristiani dare il perdono. Per il caso di questi 40 martiri di Butta, loro hanno dato veramente subito il perdono agli assassini, hanno detto padre perdona loro. E questo è stato un frutto di una grande educazione che c'era e che c'è anche nel seminario minore di Butta. Allora c'è un'educazione, una formazione, è vero, alla scienza, alla matematica, alla fisica, alla biologia, alla chimica, però c'è anche una grande formazione spirituale. Ogni giorno c'è una celebrazione della Santa Messa, come lo diceva il beato Carlo Agutis. La Santa Messa, l'Eucaristia, è come l'autostrada che ci porta al cielo e che ci aiuta anche a perdonare. E quindi questa formazione spirituale, la formazione anche culturale, c'era veramente un clima di amicizia, un clima di fraternità tra di noi, che dare il perdono era una cosa che per noi è facile. Sono stato lì come segnalista in stage dopo la filosofia. Ho visto nelle assemblee di preghiere che i genitori di questi ragazzi morti dicevano che per loro hanno già dato il perdono. Però non si sa fino adesso chi ha ucciso questi ragazzi. Però i genitori dicono che per loro hanno già dato il perdono. E quindi il perdono è possibile. E quindi il preghiere. Grazie.